Poi, ah ehi, stasera, due, due, poi ho anche da suggerirvi il romanzo di Tito Giliberto, Venezia 1493, L'artista e il diavolo, un thriller ispirato da un'ipotesi storica fondata che passa per i capolavori realizzati da Jeronimus Bosch, uno dei pittori più enigmatici di tutti i tempi. Questo lo consiglio. Io invece vi consiglio di seguire C'è posta per te domani, non perdetevi paperissima sprint, noi ci vediamo lunedì. Ciao, buona domenica!